Il Liber che mette a tutti i materiali ben insieme per indrezzare la mostra SkiPast. In viaggio tra il tempo tra la storia di sport da d'inverno e solo il tutto dei Ski. Dalle prume ebrehe, l'è proprio il caso del dir, ai mezzi pieni di tecnologia del didanché. Il Liber è stato portadante in stadio della Galleria Biencia a Trent, di una semplice cerimonia per trarre su questa esposizione dedicata ai Ski e al Paz Long. A questa parte, a pede ai curatori della mostra, Alessandro De Bortoli, Giuseppe Ferrandi e Roberta Tait, l'era Pietro De Godens, presidente del Comitato Organizzatore di Campionati del Mondo 2013, i sportivi Franco Nonas e Giorgio Vanzetta, a pede a Angelo Dal Pez, presidente della Fisi del Trentin e Alfredo Weiss, presidente del Comitato Marcia Longa. L'è stata un'occasione per rendere il paio a tutti chi si adatta a fare quest'ultima anno e ha dato una mano a realizzare la mostra. Ma c'è un ringraziamento a chi è stato giù per il buon esito della quarantesima edizione della Marcia Longa e per i mondiali della Val d'Effiem. Io credo che la storia degli eventi sportivi, la conseguenza di una cultura di solidarietà e di sussidiarietà che la nostra gente, la conia aere per l'urare per vivere i nostri posti. Quindi adesso questa cultura l'abbiamo portata avanti in questi grandi eventi, per altri non grandi eventi, vai di protezione civile, divertimenti di carattere sportivo o ricreativo. Quindi questa cultura viene fuori chiaro che un mondiale, una marcia longa, se per realizzarla, adesso perché esiste questa cultura che la è da sempre. Del pubblico appede ai rappresentanti della Scuola della Finanza dei Pardacci, sportives dei Angern e del Didanchè. E alla fine è stata proiettata in 100 documentari realizzati da Lorenzo Pevarello. Non solo bisonti, storie di una gara e di due valli. Un filmat che resona sì della Marcia Longa, ma in c'è della storia del sviluppo delle due valade, le ha alla diffusione di sport da d'inverno, con testimonianze dritte e in c'è da Valca Fassan.